Allora, lezione corta ma faticosa, non tantissimo, abbastanza. Faremo delle ripetute in pianura, ma non velocissime, a 90 pedalate al minuto, semplice, semplice, 90 pedalate al minuto, saranno 4 ripetute da 4 minuti ciascuna. All'85% intervallate da 2 minuti di recupero. Allora, lezione corta ma faticosa, non c'è un po' di sottotitoli, non c'è un po' di sottotitoli, non c'è un po' di sottotitoli. Ok, visto che abbiamo tanta strada ancora avanti a noi, non ha salita di sopra dell'85%, rimaniamo lì in soglia. Siete qui per questo, per non andare troppo in alto. Mi raccomando, Davide, non sopra l'85%. Piero, hai voglia di andare a alzare un po' di sottotitoli? Piero, hai voglia di andare a alzare un po' di sottotitoli? Ecco, adesso vi vedo tutti, mi piacete un sacco così, perché prima erano troppo lontani. E' solo il Davide che non lo vedo tanto. Com'è meglio? Il piede è pensieroso. Non va il cardio. Beh, non troppo. Siamo caldi? 30 minuti. Perché quelle da 30 minuti si deve partire subito. 30 secondi. Iniziamo a chiudere, a prendere le 90 pedalate al minuto. 15 secondi. 85% è uno sforzo importante. Ok, chiudo. 4 minuti. Cercate di bilanciare la pedalata. Il Piero sta aggiustando il cardio. È partito? Ricordatevi, tiro e spingo anche qui. Davide, ti dico io al grana. È come dobbling, perché guarda come stanno andando veloci. No, no, lo so che l'hai mangiato. Come l'ha detto il Davide? No, il Mauri no. L'ha mangiato? Hai mangiato il grana? Adesso alzi la mano chi ha mangiato il grana, che voglio capire... Voglio capire se vanno meglio o peggio degli altri. Ricordatevi che se non siete all'85% dovete chiudere. Omar, dove sei? Eh no, perché sei appena arrivato. Ma funziona? Forza! 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 Un minuto! Arianna tutto bene? Tutto bene, Arianna? 20 secondi! Ok, rallento, non tocco la resistenza, abbandono il tempo della musica, recupero due minuti! E se voglio, in piedi! Si potrebbe anche osservare, Marco, se chi ha mangiato il grana si alza prima la frequenza cardiaca. Si ha il cuore più reattivo. Allora, dopo, mangiate tutto il grana, anzi no, dopo nessuno. E poi, dopo nessuno, eh! Prima dell'ultima, tutti! La prossima volta! Quindi siamo d'accordo, dopo nessuno, e prima dell'ultima, tutti! Ci siamo! Non abbiamo toccato la resistenza, quindi ci sediamo, riprendiamo le 90 pedalate al minuto, 4 minuti! E riprendiamo l'85%! Può essere che adesso si possa chiudere un pochettino in più! Chi mi vuole? Fagli affacciare qui! Sì, grazie! Ci vediamo dopo, alle 6, va bene! Grazie mille! È l'associazione per cui abbiamo raccolto gli alimenti che ci ha portato salatini! Per l'aperitivo! Per l'aperitivo! Ora c'è da capire l'aspetto del salatino sulla prestazione sportiva! Dopo tutti i salatini! No, e grazie a dopo! No, e grazie a dopo! Due minuti! Non perdo il ritmo! No perdo il ritmo! Non Rod, Sofranath Mon Un minuto! Rilassate le spalle! Concentrate il lavoro sulle gambe! Un minuto! 10 secondi! stop rallento asciugo il sudore e bevo e su quando volete recupero gambe recupero fiato quindi dopo salatini ma Marco niente grana ok? dopo ancora grana e non salatini d'accordo? i wafer liberi? liberi liberi per il resto non ci sono indicazioni il resto a volontà è in qualsiasi momento un minuto ora guardate il Mauri che non mi sta recuperando guardatelo sta facendo quello che vuole eh però recupera eh Laura sta recuperando bene Laura hai mentito? 15 secondi ok inizio a sedermi e riprendo la velocità 4 minuti 85% 90 pedalate al minuto Omar come va? Riccardo? cioè quanto? 16 Mark Jones 76 Sì, non lo sai. Sappiate che Lohomar, lui, come secondo lavoro vende cardio che non funzionano. No, Giro Coca no! Non si può, Giro Coca Cola non si può. Solo Giro Caramelle. Non abbiamo tempo per il Giro Coca Cola. E se volete potete chiudere ancora un briciolo. Due minuti! Forza sui pedali! E velocità! E velocità! Un minuto! Mantengo! Trenta secondi! Trenta secondi! Trenta secondi! Venti! Ci siamo! Stop! Bebo! Trenta secondi! Trenai a fare teniamo! Ci sono dicono! Treni di dormire, blueprinti che domandolo e chiaramente Mi alzo sui pedali, chi vuole recupero un minuto e mezzo e poi l'ultima. Poi dopo siamo esattamente a metà, però la parte peggiore è la successiva. Cosa succede? L'azienda a tutti! Ok, mi siedo, pian piano riprendo le 110 pedalate al minuto. È 90, 90! Via! Quattro minuti ci portano alla fine. Oh, il 35 per cento! Quattro minuti! Mantengo il ritmo! Marco è veloce! A goccia, a goccia quella Coca Cola! Quattro minuti! Quattro minuti! Alla fine! Quattro minuti! Voi da e! Alla fine! Due minuti Federico Aspetta un attimo Che dopo vediamo per le bici Se no Federico Prendi una di quelle grigie Non ha il doppio stacco Poi vediamo Se no Federico Guardala lì No ma non ce l'ha forse Neanche quella Quella blu Un minuto Dai dai Fino alla fine 30 secondi 20 secondi 20 secondi 20 secondi 20 secondi E stop Ralletto E tolgo resistenza Rallentiamo pian pianino Stefi Poi la sistemiamo qui dietro Rallento 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 Va bene Pian pianino Come va? Tutto bene? Sì Mezz'ora è passata Velocissima Pian piano Si rallenta Fino per marci Respiro Nesso E Zù Ancora So Tiro Tiro Pieno Passi un po' Hai voglia? Apro le spalle Grazie maestro Abis Qui Lei è la stefina Maestra Abis Anche lei Ho due maestri Abis Cambio Eh ma è nascosto Ma adesso aspetta Che lo sposto un po' Mezzo giro Cambio Scendo Qui Su Scendo Cambio Su Scendo Respirone Ultimo E Giù Bravi 5 minuti Rendi L'allenamento Di indoor cycling Ancora più efficace Con questi esercizi Un attire Un attire Aus Aus 'D Er Di